Ciao a tutti, come capire se è davvero l'uomo giusto per te? C'è questo mito dell'uomo giusto, trovare l'uomo giusto. Diciamo che l'uomo giusto al 100% non esiste, però deve esistere almeno al 70%, cioè deve soddisfare almeno al 70% ognuna delle nostre tre istanze che determinano l'innamoramento. Cioè l'istanza logico-razionale deve essere una persona che ha i tuoi valori condivisi, interessi in comune. Insomma, che da un punto di vista logico ti va bene. Poi deve darti almeno al 70% di emozioni positive su un 100% di emozioni che comunque ti darà o negative o positive, diciamo così. Quindi questo è importante valutarlo e questo lo capisci dalle sensazioni che provi. Ovviamente se tu provi attaccamento, gelosia, quelle sono emozioni negative. Dobbiamo tenere presente quello, cioè una persona con la quale provi attaccamento e gelosia non è la persona giusta comunque, perché ti va a stimolare queste tue parti. O comunque una persona che ti fa vivere abbandono, eccetera, può attrarre molto, ma non è sicuramente la persona giusta. E poi ci deve essere anche la passionalità, l'intesa passionale. Anche questa, diciamo, con una tolleranza del 30%, cioè su un 100% almeno arrivare al 70%. Ecco, quindi ovvio che le percentuali non è che puoi valutarle. Tieni presente in modo così scientifico, diciamo, misurarle. Però comunque riesci a capire, insomma, ad esempio da un punto di vista cognitivo forse più facile, la cosa è molto più misurabile perché riesci a capire se lui è uno che ad esempio non ama i viaggiare, vuole stare a casa e tu, la tua passione sono i viaggi, per dire, oppure passare il tempo libero fuori al mare e lui vuole starsene a casa, per dire. Beh, sicuramente almeno da un punto di vista cognitivo, razionale, non passate, avete idee diverse su come trascorrere il tempo libero, per cui vorrebbe dire che uno dovrebbe adattarsi all'altro o comunque, insomma, sono questioni di adattamento in cui alla fine non si è soddisfatti. Certo che all'inizio, quando la passione e le altre due parti, diciamo, per effetto alone coprono, può anche andare bene, però poi dopo tieni presente che la passionalità inevitabilmente finisce, per cui tutto il resto alla fine devi capire come gestirlo, quindi è molto meglio avere da quel punto di vista lì delle affinità. Per quanto riguarda invece la parte passionale, tieni presente che va mantenuta nel tempo. Ci deve essere l'inizio perché se non c'è è più difficile costruirla, però poi va manutenuta nel tempo. Naturalmente tende a decadere, quindi bisogna preservarla. Preservarla significa mantenere il mistero, introdurre qualche antagonista, insomma, lavorarci sopra. Naturalmente si esaurisce molto in fretta. Quindi è importante la parte cognitiva, mantenere la parte passionale e la parte emotiva non deve essere uno struggersi, perché se è un amore tormentato, un amore struggente, non è sicuramente l'amore giusto. Ecco, queste sono le caratteristiche per capire se è veramente l'uomo giusto per te. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscriviti a questo canale e anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!